Andro Barbagallo, curatore delle collezioni storiche dei Musei Vaticani. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno, grazie. Accomodiamoci. I Santi Nereo e Achilleo. Noi sappiamo quello che ci è stato tramandato di loro, ossia che si tratta appunto probabilmente di soldati convertiti e questa è la prima rappresentazione che ne abbiamo. Santa Domitilia con Nereo e Achilleo, Cristoforo Roncalli, siamo alla fine del 1500-1598-1999 alla chiesa proprio dei Santi Nereo e Achilleo a Roma. Che cosa sappiamo di loro anche studiando queste immagini? Sì, innanzitutto bisogna dire che stiamo parlando di due Santi Nereo e Achilleo, fratelli, non solo fratelli ma tra l'altro di due Santi un po' particolari, come tanti altri, che hanno cercato in qualche modo di santificare la loro vita attraverso la quotidianità. Perché attraverso la quotidianità? Perché sono due fratelli che, come è stato detto poco anzi, erano due soldati, erano due pretoriani, quindi al servizio dell'imperatore commettevano tutta una serie di sopprusi soprattutto. Però tra un soppruso e l'altro hanno in qualche modo avuto un momento di crisi di coscienza e hanno capito gli errori che stavano facendo e si sono avvicinati al cristianesimo addirittura convertendosi da lì a poco. Cosa accade? Una volta convertiti, erano due pretoriani, non andava questa cosa, vengono puniti come naturalmente spogliati di tutto ciò che riguardava il lato militare e mandati addirittura nella casa della nipote dell'imperatore Vespasiano, Domitilla, che noi vediamo in questo quadro al centro con la palma del martirio, mandati a casa di Domitilla a fare cosa? Niente di meno che i cubiculari, ossia i servi della camera da letto. Quindi praticamente vengono ridotti a una sorta di nulla per ciò che era la società del tempo. Però cosa fanno? Non si perdono assolutamente d'animo. La nipote dell'imperatore doveva da lì a poco sposarsi, ma loro invece la convertono e la convertono a tal punto non solo da farla da lì a poco battezzare e quindi farla diventare cristiana, ma addirittura da farle capire l'importanza di una vita dedicata totalmente a Cristo, tant'è vero che rinuncia al matrimonio per consacrarsi a Dio. Quindi da questo punto di vista i tre poi seguiranno il resto della loro vita fino al martirio insieme, tant'è vero che nelle opere d'arte vengono rappresentate insieme perché naturalmente l'uno segue l'altro. E il quadro, nello specifico, guarda caso, è un'opera che fu commissionata dal cardinale Baronio. Il cardinale Baronio, un noto personaggio coltissimo della fine del Cinquecento, oltre ad aver scritto una storia della Chiesa, è anche colui che praticamente ha rivisto tutto il martiriorogio romano e aveva proprio il titolo della Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo. Ecco che quindi la commissione di quest'opera a un artista che tra l'altro ha soprannominato il pomarancio è diventato qualcosa di importante, di essenziale, ma a sua volta c'è anche l'idea che in quest'opera noi vediamo Domitilla al centro con la palma del martirio, ma quest'opera con Domitilla al centro con la palma del martirio è importante perché Nereo e Achilleo le stanno ai fianchi ma non hanno la palma del martirio perché tengono entrambi i libri delle Sacre Scritture, mentre invece dall'alto arrivano degli angeli che stanno portando delle corone di fiori. In qualche modo la santificazione per il loro sacrificio, per ciò che avevano fatto di virtuoso per arrivare alla santità, sta scendendo attraverso quelle corone di fiori. La rappresentazione di Domitilla ritorna anche nella prossima opera, Santa Domitilla con Nereo e Achilleo, questa volta Pier Polo Rubens, 1608, conservato alla Chiesa Nuova di Roma. Che cosa cambia? Che cosa rimane immutato? Cambia qualcosa e qualcos'altro rimane immutato. Innanzitutto rimane immutato l'idea di questi angeli che scendono dal cielo portando queste corone di fiori e l'idea Rubens, nonostante sia uno dei, anzi l'artista per eccellenza che ha anticipato il barocco in area venendo dal territorio fiammingo, che guarda caso prende dal pomarancio questo dettaglio. Però in questo caso noi vediamo sempre Domitilla al centro, vestita bene, perché stiamo parlando di una donna dell'aristocrazia dell'antica Roma, ma Nereo e Achilleo non sono più con i libri in mano perché anche loro tengono la palma del martirio. Palma del martirio che è dovuta al fatto che comunque hanno subito un martirio in un periodo ben preciso. L'ultima persecuzione dei cristiani praticamente inizia nell'anno 303 e finisce nell'anno 303 con l'editto di Costantino. In quel decennio i cristiani hanno patito le peggiori persecuzioni che la storia abbia registrato. E in quell'anno 304, guarda caso, muore sia Domitilla che Nereo e Achilleo. Nereo ed Achilleo addirittura verranno decapitati dopo essere stati per un periodo in isolamento tutti e tre sull'isola di Ponza. E non solo le avevano mandati, spediti sull'isola di Ponza, ma guarda caso, che fanno sull'isola di Ponza? Continuano a convertire liberamente, tant'è vero che praticamente creano una sorta di proseliti ovunque passano fino ad arrivare all'ultimo momento prima della decapitazione. In questo senso la santificazione della quotidianità sfruttata al massimo in tutta la loro vita con una tenacia che li ha resi particolari. Seppure c'è da dire una cosa, che queste opere, questa in particolare di Rubens, è una delle opere celebri del grande artista, ma pochi conoscono nella realtà Nereo e Achilleo, pur essendoci una chiesa vicino ai termini di Caragalla, gettonatissima per le celebrazioni dei matrimoni, ma quando si dice Nereo e Achilleo, chi sono? Nessuno lo sa rispondere. Sì, esattamente, magari su Pietro e Paolo, o su altri santi, dubbiamente tutti rispondono, ma su questi tre santi messi insieme, seppure Domitilla viene celebrata in un periodo totalmente differente, pochi conoscono la vita. Quest'oggi siamo con te proprio per questo, per conoscerli meglio. Non svegliamo altro, andiamo in pubblicità perché la nostra galleria continua con altre due opere. A fra poco. Oggi, 12 maggio, la chiesa ricorda i santi Nereo e Achilleo, ne stiamo parlando con Sandro Barbagallo, curatore delle collezioni storiche dei musei vaticane, vedendo come sono stati rappresentati nell'arte, due santi poco frequentati, ma che in realtà hanno da dire. L'opera che vogliamo proporvi adesso è il battesimo di Santa Domitilla, opera di Niccolò Cercignani, siamo nel XVI secolo, conservata proprio nella chiesa dei due santi qui a Roma. Sì, più che, se mi permetti, poco frequentati, poco conosciuti, perché la chiesa di Nereo e Achilleo nella realtà è frequentatissima, come dicevo prima, per i matrimoni. E all'interno di questa chiesa c'è un ciclo di affreschi fatti da questo che è uno dei grandi artisti affreschisti della fine del Cinquecento romano. E ci sono una serie di affreschi che rappresentano per l'appunto i martiri di alcuni santi, ma ci sono anche degli affreschi che raccontano degli spaccati della vita di Nereo e Achilleo, che è sempre legata a quella di Domitilla. E in questo caso vediamo proprio il momento del battesimo di Domitilla, il momento della conversione definitiva di Domitilla, il suo ingresso nella chiesa, e alle spalle ci sono i due fratelli, Nereo e Achilleo, che naturalmente assistono come se fossero quasi dei padrini. Ma naturalmente Domitilla era la nipote dell'imperatore, apparteneva alla classe aristocratica, chi poteva battezzarla se non un papa, come per l'appunto vediamo nella fresco. L'altra cosa curiosa è quella che questo artista detiene, come l'altro collega che abbiamo visto all'inizio della puntata, detiene lo stesso soprannome, pomarancio. Tant'è vero che spesso e volentieri vengono un po' scambiati. Vengono confusi l'uno con l'altro. Esattamente, seppure questo è detto il pomarancio perché è nato a Pomaranz, e quindi è una motivazione. C'è una ragione, ma gli unisce anche il fatto di aver rappresentato la stessa opera. Proseguiamo ancora col martirio dei Santi Nereo e Achilleo, Ottaviano Vannini e Domenico Cresti, 1598 circa, conservata invece a Firenze, Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Sì, nella realtà Nereo e Achilleo non è ricordato soltanto a Roma, ma è ricordato addirittura fino a una parrocchia sua a Milano. Seppure resta un poco così limitata tutto ciò che riguarda l'attività devozionale di questi due specifici Santi. In questo caso, per esempio, vediamo quest'opera a doppia firma, conservata a Firenze, e l'opera rappresenta proprio il martirio. Come dicevo prima, alla fine, dopo essere stati mandati sull'isola di Ponza, dove comunque hanno continuato la loro attività di conversione, alla fine comunque verranno martirizzati, verranno martirizzati attraverso la decapitazione e ciò accade nell'anno 304, un periodo in cui, come dicevo prima, le persecuzioni contro i cristiani saranno veramente cruente. Persecuzioni che finiranno soltanto dopo dieci anni, ossia nel 313, quando con l'editto di Milano la religione cristiana diventa libera, come tutte le altre religioni, perché nella realtà quello sarà un editto di tolleranza, ma da lì a poco l'imperatore Costantino verrà anche lui ad essere convertito, e si farà battezzare da Papa Silvestro, e naturalmente se l'imperatore è cristiano, il cristianesimo diventa la religione di Stato. A quel punto praticamente il cristianesimo farà una svolta, perché diventerà da una religione, anzi da una setta di perseguitati, a religione di Stato. E quindi tutti quei santi, tutti quei personaggi, come Nereo, Achilleo, Domitilla, ma a partire dallo stesso Pietro e Paolo, praticamente sono oggi da tutti quanti noi ricordati, perché sono sì dei martiri della fete, ma sono anche coloro che attraverso il loro sangue sparso su Roma, hanno trasformato questa città in una sorta di nuova Gerusalemme. perché se quella originaria, ossia Gerusalemme in terra santa, è resa santa dal sangue di Cristo, questa è stata resa santa dalla passione di tanti martiri. E questi tasselli, anche quelli meno conosciuti, vale sempre la pena di conoscerli, e oggi l'abbiamo fatto grazie a te. Grazie, Sandro Barbacano, curatore delle collezioni storiche dei Musei Vaticani, per essere stato con noi.